La festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. La festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. È la riflessione che Papa Francesco ha offerto ai pellegrini giunti in Aula Paolo VI per la tradizionale udienza generale del mercoledì. Proseguendo le catechesi dedicate alla famiglia, il Pontefice ha inaugurato una riflessione sui ritmi che dovrebbero scandire la vita in questo ambito. La festa, il lavoro, la preghiera. Soffermandosi sulla festa, un'invenzione di Dio, ha chiarito che il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale, ricordando all'uomo e alla donna che sono fatti a immagine di Dio e non sono schiavi. E invece sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, eh? Sono sfruttati schiavi del lavoro. E questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo del riposo, soprattutto quello dominicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. Papa Francesco ha poi condannato quell'ideologia del profitto e del consumo che vuole mangiarsi anche la festa, tanto da ridurla a un affare, a un modo di fare soldi e spenderli. L'ingordigia del consumare ha concluso è un brutto virus che nuoce al lavoro vero e consuma la vita. I ritmi sregolati della festa fanno vittime, spesso giovani.